Io sono ancora incredibile di quello che è successo perché raga oggi pomeriggio avevo tirato giù una valanga di lacrime perché avevo provato insieme a mio padre a rifare sempre quella roba però raga non riuscivo a farla non riuscivamo ragazzi e quindi ragazzi ho deciso di chiudere il canale mi dispiace moltissimo perché avevo raggiunto dei traguardi che io sognavo da una vita erano i miei sogni principali però nella vita non si può purtroppo tenere tutto purtroppo devo chiudere il canale ci vediamo alla prossima avventura bella e guarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettavano signori ci sono riuscito mi dissocio sì ci dissociamo tutti ragazzi e raga siamo ritornati sono tornato dai così raga le live purtroppo me l'hanno bannata ancora per una cioè o entro con il fico entro fine questa settimana ragazzi o entro il prossimo fine settimana ragazzi dovrei averci ragazzi ma intanto siamo tornati sì raga ci vedremo subito con un nuovo video spero che vi piaccia raga perché è una roba bellissima quella che dovrò fare ci vediamo ragazzi nel prossimo video ci si è raga vi prego dai non potete dire che non ci siete cascati dai raga cioè non ci credo che qualcuno non ci è cascato eccolo lì quello lì lo vedo che ragazzi stava a godere eh sì proprio tu stavi godendo tantissimo che ho chiuso il canale guarda che faccia zitto adesso zitto e a cuccia noi ci vediamo nel prossimo video bella